E benvenuti in un nuovo video Oggi siamo venuti su una nuova serie del canale Che potrebbe diventare anche giornaliera Stiamo parlando di Brawl Stars Un gioco ucciso da pochissimo per tutti i dispositivi Ci sto giocando, l'ho scaricato ieri Sono a pochissimi, te lo fai 147 Ma mi piace tantissimo Ho pochi brawler Qua ci sono alcuni brawler Per esempio c'è Bull che è bellissimo Anche la vichingo C'è il primo Bu Tara Spike, Corv Leon e altri Brawler Se vedo che vi piace questa serie La potremmo portare altre volte sul canale Allora Andiamo a farci subito una bella partita Come brawler Un attimo che spostiamo Ok Come brawler Mettiamo Un Mettiamo Shelly Che possiamo averla sia così sia così Per la farla così Bisogna avere 30 gem Appena le avrò Lo prenderò subito Prendiamo Stellare C'è lì Stellare Andiamo subito con la prima partita Del video Ok Speriamo di vincere questa prima partita E dopo Andiamo in live su Fortnite Aspettare Il nuovo shop Ok Ci sono i nostri amici Non sono molto forte A Brawl Stars Però Mi piaceva E l'ho voluto Ci ho voluto provare Poi ho Shelly Non lo so Sarebbe benissimo Una kill per noi Una kill per noi Regà 4 a 1 Ok Pochissima Regà Pochissimo Ok Riminato Uuu I nemici hanno un po' di gemme Ok E abbiamo sperato Ritorniamo che non abbiamo carica Non abbiamo carica Ok Ok Un'altra kill No regà Regà Stiamo perdendo un botto Regà Andiamole a prendere Regà Regà Se gli prendiamo le gemme Abbiamo vinto Sì 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 Regà Abbiamo fatto rimontare la squadra All'ultimo Camperate Bro Camperate Camperate E ragazzi Dai Che l'abbiamo vinta Super Rimontata Mamma mia Cosa abbiamo fatto Brande Grado 5 per Shelly Più 6 Trofei E anche 20 Gettoni Per I bauli Per ora delle casse Brawl Abbiamo sbloccato Un nuovo evento Vediamo Il football Andiamo subito a fare Dai Facciamo una partita In questo nuovo evento Che abbiamo sbloccato Adesso Vediamo Anche con Il primo Ci abbiamo Boh Dall'altra parte Vediamo Vediamo Com'è Questo Evento Se lì c'è il primo Ragazzi Abbiamo segnato Il primo Ragazzi Il primo Ci ha segnato C'è un bo Bo Avanza Bo Avanza Fermate Bo Ah 1 a 1 Bella 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 Mi pare che Vince Che arriva Per prima 2 Ti ha la palla Noi Noi Vai Il primo Sì Io ho vinto Bombrega Anche un bel Gettone Stella Ci siamo presi Non me ne ero Neanche accorto Che c'era un bel Gettone Stella Alla facciamo così Questo video di Brawl Stars Si può concludere qui Se volete altri episodi Scrivetevi sotto i commenti E niente